Siterrà dal 26 al 28 settembre a Gorlitz in Germania l'ottavo forum consultivo degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa. Organizzato dal Consiglio d'Europa, il forum di quest'anno si concentrerà sul tema degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa che collegano valori culturali, siti storici e cittadini, strategie e sinergie in una prospettiva globale. In concomitanza con l'anno europeo del patrimonio culturale, il forum consultivo 2018 intende creare sinergie e strategie comuni tra programmi complementari. Saranno approfondite principalmente le rotte culturali del Consiglio d'Europa e le potenziali sinergie con le strategie regionali e politiche dell'Unione Europea, nonché con vari programmi come le giornate europee del patrimonio. Un'iniziativa che coinvolge anche il territorio toscano e non solo con i cammini di Francesco. Intanto vorrei partire dal dire che per il nostro progetto il Ministero ha già deliberato l'apertura di un finanziamento per i comuni per la messa in sicurezza che era il fatto fondamentale, altrimenti non si può percorrere un cammino. Ecco, accanto a questo noi abbiamo parallelamente portato avanti insieme all'Offse, insieme all'Università Antoniana di Roma alla Basilica di Assisi, un progetto europeo sulle rute culturelle che si chiama itinerario europeo del sapere, i cammini Francesco. Quindi abbiamo idealmente unito un cammino materiale, quello che poi andrà da Firenze a Roma, ovviamente che è a centro Assisi, a un cammino materiale basato sulle università fondate o dove i francescani hanno avuto un ruolo iniziale importante. Un'università europea e anche un'università italiana, per la Toscana c'è sia Firenze che Siena, c'è Bologna, c'è Roma ovviamente, la Sapienza, poi ci sono Cracovia, la Sorbona, Salamanca, quindi un'università importante. Questo dovrebbe aprire un interesse dell'Europa verso questo cammino, da un Erasmus, ma anche a livello di ricerca sul ruolo economico dei francescani. Voglio dirvi che ruolo hanno avuto i francescani a Firenze, sulle prime scuole del lavoro, che si allarga quindi in termini di cammino e materiale fino a Santiago di Compostela, fino a Spalato e fino a Gerusalemme. Quindi io sono convinto che se riusciamo a superare questo esame della Commissione europea, che ci sarà fra qualche giorno, ci sarà un risultato straordinario per i nostri territori di attenzione di tutta l'Europa. Qual è l'importanza, anche ricordiamo, di questo progetto dei cammini di Francesco? Ha un'arrivanza innanzitutto spirituale perché unisce i luoghi delle fonti francescani, che sono tanti da noi, dal Santuario della Verna, Cervaiolo, Monte Casale, dall'altro lato l'Eremo della Casella, il Castello di Montauto, la Croce di Angiari, la Cacciata dei Diavoli di Arezzo e l'Eremo delle Celle di Cortola. Quindi unisce questi luoghi, ma anche ha una rilevanza perché mette in rete tante amministrazioni che spesso non sono capaci di stare insieme, le mette forzatamente in rete pensando a un'economia dei piccoli centri, quindi a recupero, a ricreare un posto di lavoro per i giovani che hanno voglia di mettersi in discussione. Quindi ha tante aspettative. Io voglio ricordare che anche l'operazione di Santiago di Compostela, che io ho studiato a fondo prima di partire per questa avventura, è un'operazione che poi ha cominciato a dare i frutti dopo 7, 8, 10 anni, come è normale che sia. Però rispetto a Santiago noi siamo in grado di offrire intanto dei cammini che dal punto di vista naturalistico e ambientale sono straordinari. Poi più legati alla spiritualità non deve assolutamente diventare la Disneyland del cammino, ma deve essere una cosa completamente diversa. Qual è l'importanza, già un po' l'ha accennato, proprio anche per le regioni? Le regioni che sono coinvolte sono quattro, perché sono la Toscana, l'Umbria ovviamente, il Lazio e l'Emilia Romagna. È fondamentale anche perché rappresenta una fetta di turismo innovativa. Quando si parla di turismo dobbiamo parlare di turismi. Questo è un effetto di un turismo che per esempio per una città come Firenze riesce in qualche modo a rallentare tutto questo flusso turistico esagerato del centro di Firenze, ma proponendo anche un'apertura del territorio. Questo è assolutamente uno degli obiettivi di tutta questa iniziativa. E qual è l'importanza anche di dargli un respiro europeo? Il rapporto che vi ho detto con queste università è un rapporto di grande importanza. Poi perché essere cammino riconosciuto dall'Europa apre tutta una serie di bandi e di finanziamenti che sono di estrema interesse per tutto il territorio e che quindi andranno a vantaggio degli enti pubblici, ma anche delle università, anche dei giovani, ma anche dei partner che stiamo costruendo a livello locale perché ci sia proprio dal territorio una risposta precisa. ad Arezzo, come a Tiberina, come a Cortona, c'è tanti partner che possono veramente dare un contributo anche in un contatto con università di grande prestigio. Questo è un fatto assolutamente fondamentale se vogliamo costruire un'Europa non dei muri, non delle barriere, ma dei cammini.